È una cinquina che mi piace, è una cinquina equilibrata, frutto di un'elaborazione a più voci, a più teste e frutto di un equilibrio raggiunto, in cui ci sono scrittori che sono entrati con un consenso ampio e abbastanza rapido, anche rapidamente manifestatosi. Ci sono scrittori che hanno sofferto un po' di più per entrare, c'è una sola donna, questo un po' mi dispiace, io ho cercato personalmente di farne entrare almeno un'altra a cui credevo molto ma che alla fine non è entrata, ma non importa. L'ultimo a entrare è stato un libro che non è un romanzo e questo anche credo sia importante e credo sia una buona notizia perché negli ultimi anni non è un romanzo come te l'aspetta, un romanzo convenzionale, non è un libro immediatamente, associabile alla categoria del romanzo e credo che questa sia una buona cosa perché il Campiello sta esplorando in questi anni.